Grazie. Presidente del Consiglio Matteo Renzi qui a Berlino. Ci incontriamo questa sera per preparare il Consiglio europeo di domani, il che significa normalmente routine, ma ci incontriamo questa sera proprio a pochi giorni da una decisione molto dolorosa e rincrescevole, cioè la decisione dei cittadini britannici di uscire dall'Europa. Di voler uscire dall'Europa. Certamente rispettiamo questa decisione, però deve poi essere considerata nelle proprie conseguenze. E noi sappiamo che in questo momento portiamo una responsabilità come tutti i Paesi membri dell'Unione europea e le istituzioni europee che dobbiamo condurre 27 Paesi membri su una via unitaria. Da un lato dobbiamo parlare e negoziare con la Gran Bretagna sull'uscita effettiva dall'Unione. Noi siamo concordi nel ritenere che l'articolo 50 dei trattati europei afferma chiaramente che chi vuole uscire dall'Unione europea deve presentare domanda ufficiale da indirizzare al Consiglio europeo. Prima che questo non avvenga non possono essere compiuti altri passi. Solo in quel momento ci saranno linee guida approvate dal Consiglio europeo per poter poi portare avanti i negoziati sull'uscita. Quindi non ci possono essere colloqui né informali né formali sull'uscita della Gran Bretagna dall'Unione prima che non sia stata presentata questa domanda esplicita di uscire da sottoporre all'attenzione del Consiglio europeo. Certamente non vogliamo rimanere in sospeso per un tempo indeterminato. Non si tratterà di un giorno o di pochi, ma comunque non dobbiamo rimanere in sospeso. E l'azione, il primo passo deve venire dalla Gran Bretagna, questo sia chiaro. Dall'altro lato dobbiamo anche riflettere sul significato dei negoziati sull'uscita della Gran Bretagna per i nostri 27 Paesi membri dell'Unione. Noi continuiamo ad essere una delle economie più forti del mondo, siamo una grande comunità e il Consiglio europeo deve essere portato avanti domani e domani. E al fine di permetterci di raggiungere un'azione unita per impedire che ci siano forze centrifughe all'interno dell'Unione europea. E quindi noi presenteremo ai nostri colleghi una proposta che metteremo un nuovo accento anche per quanto riguarda il lavoro stesso dell'Unione europea. In tanti settori poi preconizzeremo anche misure concrete nel corso dei prossimi eventi, sicurezza interna e destra. Voi sapete che stiamo conducendo la lotta al terrorismo, poi c'è il problema della migrazione dei rifugiati e quindi dobbiamo procedere i confini esterni. Dobbiamo rafforzare la cooperazione e sviluppo con il Nord Africa e anche con la stessa Turchia nel contesto poi dei profughi. E lì c'è stata una nuova strategia. E la seconda priorità sono le tematiche della crescita economica e della competitività. Si tratta soprattutto di garantire un numero sufficiente di posti di lavoro, il che non è il caso. In questo momento l'unione europea e quindi dobbiamo vedere che cosa possiamo cambiare nelle nostre azioni, nelle nostre politiche. La nostra maggiore attenzione è rivolta ai giovani. La maggioranza dei britannici si è pronunciata in favore dell'uscita, ma non i giovani. La maggioranza dei giovani inglesi non era in favore dell'uscita. E quindi proprio per questo dobbiamo anche discutere su come lanciare segnali specifichi proprio ai giovani nei nostri paesi. Noi lo faremo insieme ai nostri colleghi mercoledì per la prima volta. E poi a settembre ci incontreremo di nuovo per decidere su misure specifiche, concrete, fino ad arrivare al momento del sessantesimo anniversario dei trattati di Roma, dei trattati che hanno istituito la nostra Europa. Ma non possiamo aspettare fino al marzo dell'anno prossimo con queste proposte specifiche. Dobbiamo passo per passo presentare nuove proposte per la difesa, per la sicurezza, per la crescita e per la competitività. Certamente i particolari dovranno essere discussi con i nostri colleghi. Quindi un grazie di guarda ai miei colleghi qui presenti che possiamo discutere insieme su queste cose quest'oggi. Grazie signori e signori. Innanzitutto vorrei ringraziare Angela Merkel per averci ricevuto in questa sede. A Verdun abbiamo stabilito, si è trattato di una cerimonia toccante, che ci volevamo incontrare ancora prima del prossimo Consiglio europeo. E abbiamo deciso di coinvolgere in questi preparativi anche Matteo Renzi. Si tratta dei tre paesi più grandi dell'Unione europea. Certamente dell'Unione europea. Certamente. Ci sarebbe anche la Gran Bretagna. Ma la Gran Bretagna ha deciso, ha preso una decisione. C'è stato un referendum da lungo anciato. E noi insieme abbiamo fatto di tutto per convincere il popolo britannico di votare contro l'uscita dall'Unione europea. Ma ora il risultato è sotto gli occhi di tutti. Il LIF ha vinto, il che a noi dispiace oltremodo, anche se si tratta pur sempre del 52%. Ma non va dimenticato che il 40% voglia rimanere tra questi molti giovani. Il Regno Unito è un paese amico, alleato, con cui geograficamente e storicamente siamo strettamente legati in Europa. Ma dobbiamo rispettare questa decisione sovrana del popolo inglese nei confronti di un popolo che si è pronunciato in un processo decisionale che ci ha dato da fare anche tanto nei nostri colloqui e nelle nostre discussioni europee. Ora, per quanto riguarda questo lato triste, e si tratta di tempi tristi, di una situazione tristica, ma che sarà all'altezza della nostra responsabilità. Non dobbiamo perdere tempo, non dobbiamo perdere tempo, ripeto, con l'uscita, di reagire alla uscita della Gran Bretagna. E non dobbiamo perdere tempo neanche per quanto riguarda la necessità di avere un nuovo impulso per l'Unione Europea. Poi a 27. Perché non dobbiamo perdere tempo? Non c'è niente di peggio dell'incertezza. L'incertezza conduce spesso a comportamenti politici non irrazionali. E questi comportamenti irrazionali poi comportano anche problemi finanziari altrettanti irrazionali. Il Regno Unito già ha dovuto fare le prime esperienze dolorose dopo l'uscita. Questo vale per il livello politico ma anche per il livello finanziario. Ma lì bisogna impedire che ci siano ripercussioni sull'Europa. L'Europa è solita, è forte ed è un'opera di costruzione che deve essere portata avanti. Quindi anche se certamente dovranno essere modifiche e sicuramente anche elementi nuovi. E come Angela ha già avuto un modo di non perdere tempo, significa anche la comunicazione da parte dei britannici dovrebbe avvenire quanto prima la comunicazione formulale. Prima non ci saranno, in nessun modo non ci saranno trattative negoziate. Una volta che la comunicazione, vale a dire la domanda di uscire dall'Unione, è stata trasmessa quella fase negoziale inizierà sulla base dell'articolo 50. Questo è un bene per l'intera Europa. Le cose devono svolgersi proprio in questo modo e devono avvenire così. Certamente comprendiamo la situazione politica nel Regno Unito e anche lì dobbiamo nutrire rispetto e manifestare rispetto. Ma anche noi possiamo esigere il rispetto da parte loro, da parte del Regno Unito, il che significa l'Unione Europea. Certamente coltiveremo anche in futuro stretti rapporti con il Regno Unito. Soprattutto per la Francia noi abbiamo importanti rapporti in materia di difesa, abbiamo rapporti strettissimi economici, finanziari, politici. Non vogliamo perdere neanche tempo per quanto riguarda la necessità di dare nuovi impulsi. Vogliamo fissare nuove priorità. Non dobbiamo reinventare l'Europa. L'acqua calda già è stata inventata. L'Europa già è stata costruita, quindi non ci deve essere una ricostruzione. Si tratta di un processo e ci concentreremo sulle priorità essenziali. Lì soprattutto adotteremo rapidamente misure concrete. Angela ha già parlato di quattro priorità e siamo d'accordo con Matteo, completamente d'accordo su queste priorità. Da una parte la sicurezza, la protezione dei nostri confini, la lotta al terrorismo, la nostra capacità di difenderci insieme e questo è molto importante per quanto riguarda la protezione delle nostre frontiere. Gli europei se lo aspettano da noi. La seconda priorità è crescita, occupazione, investimenti e certamente la digitalizzazione delle nostre industrie, la svolta energetica. Molte cose restano da fare e soprattutto dobbiamo fare meglio rispetto al passato. Poi c'è un'altra priorità che ha a che fare con questa, la gioventù, i giovani. Dobbiamo adottare misure concrete nei mesi a venire affinché i nostri giovani coltivino ancora maggiore fiducia in Europa. Gli scampi, mobilità, formazione e soprattutto occupazione. Poi per quanto riguarda la zona dell'euro, noi tre paesi fanno parte, facciamo parte della zona dell'euro. Ci sono altri paesi che non ne fanno parte, il che noi rispettiamo. Però c'è un'armonizzazione fiscale che va realizzata fino in fondo e certamente vogliamo anche migliorare le modalità di lavoro dell'Unione Europea come possono essere rese più efficienti e anche più veloci. Tutti questi temi che ci occuperanno nei nostri mesi e quindi a settembre ci sarà, se lo conferma il Consiglio Europeo, ci sarà un'agenda, una tabella di marcia già a settembre per quanto riguarda tutte queste cose. Abbiamo bisogno di chiarezza, celerità e coesione. Una volta che le cose vengono decise, allora le cose funzionano anche meglio. Grazie Angela per l'accoglienza, grazie a François e a Angela per l'invito. A quest'ora credo che gli italiani saranno molto attenti al processo di potenziale uscita dalla Spagna dai campionati europei più che dal Regno Unito, ma in realtà battute a parte, credo che sia un momento davvero di rilevanza storica. Sono dunque grato per questa occasione e condivido le considerazioni che hanno espresso Angela prima e François Poie che sono inserite nel documento al quale abbiamo lavorato. È un momento molto particolare. È come se i nostri cittadini, non soltanto i cittadini inglesi che hanno votato Remain e che hanno perduto, ma anche i nostri cittadini improvvisamente si fossero resi conto della delicata bellezza del sentimento europeo. Noi abbiamo avuto periodi in cui l'ideale europeo sembrava agli occhi della nostra gente un ideale lontano. Il giorno dopo il referendum, ne abbiamo parlato per telefono con Angela e con François, è come se ci fossimo svegliati privi di qualcosa, privati di qualcosa, come se un oggetto caro e prezioso ci fosse stato tolto. Allora io credo che vada tenuta insieme la doppia attenzione. Da un lato, come è stato giustamente ricordato, il buonsenso, la responsabilità, la lucidità che in questi momenti occorrono. Una grande famiglia che va mantenuta insieme e che va tranquillizzata. Dall'altro il bisogno molto forte che noi abbiamo di dare gambe e cuore al progetto europeo per i prossimi decenni. E quindi trovo interessante il percorso che è stato proposto e che è un percorso che prende atto, che il Regno Unito ha deciso, si volta pagina. Non è possibile perdere tempo, come è stato detto. Dobbiamo rispettare le regole e le decisioni del popolo sovrano e contemporaneamente avere a cuore una strategia per i prossimi mesi che sia però una strategia che ci porti al cuore di ciò che l'Europa deve essere. Allora, a mio giudizio, benissimo le attenzioni sulla sicurezza, benissimo le attenzioni sulla crescita, sui giovani. Credo che sia molto importante dimostrare che l'Europa è non soltanto quel grandissimo luogo di pace che ha consentito per 70 anni la pace e che negli ultimi 60 anni ha visto crescere le nostre economie, i nostri valori, i nostri ideali, contemporaneamente va valorizzato sempre di più ciò che ci unisce, che costituisce la grandezza della Germania, della Francia, dell'Italia e di tutti gli altri paesi. L'Europa sociale, l'Europa del volontariato, l'Europa dei musei, l'Europa del terzo settore, l'Europa degli asili nido. Non solo l'Europa delle procedure e delle banche. Credo che questo sia il punto chiave sul quale lavorare per i prossimi mesi, partendo dal fatto che molto è stato raggiunto, ma ancora di più possiamo fare tutti insieme. Quindi noi non minimizziamo il passaggio, abbiamo grande senso di responsabilità, sappiamo che non si può perdere neanche un minuto, ma sappiamo anche che l'Europa è forte, è solida, deve essere sempre più solidale e capace di guardare al futuro. Per me l'espressione più sintomatica è l'espressione che viene da una parola greca, non da una parola tedesca, italiana o francese, che è la parola kairos, tempo opportuno. Ecco, secondo me quello che è accaduto nell'ultima settimana ci dimostra che questo è un tempo favorevole, un tempo propizio, perché se da un lato siamo tristi, lo ha detto Angela, lo ha detto François, io sono d'accordo con loro perché siamo tristi per il voto dei cittadini inglesi, è anche vero che questo è un tempo propizio per scrivere una nuova pagina d'Europa e noi vogliamo farlo insieme, partendo da tutto ciò che ci unisce, che è molto di più di quello che ha diviso e che vede troppe persone, guardare soltanto il negativo. Ma non dobbiamo perdere neanche un minuto, su questo sono totalmente d'accordo e l'Italia farà la sua parte. Buongiorno, Nicola Barotti, Le Figaro. Una domanda su cui si è d'accordo su questo calendario, a che date dovrebbe intervenire la notificazione della Grande Bretagna? Est-ce che il settembre è un delà è accettabile? Per il mese di settembre è accettabile la comunicazione richiesta dalla Gran Bretagna e quanto durano le trattative? C'è una scadenza, un termine? Ci sono possibilità di pressione se i britannici dovessero temporeggiare? Io credo che l'articolo 50 sia univoco e la Gran Bretagna doveva presentare la domanda. Certamente con il nostro collega David Cameron ne parleremo. Oggi già lui ha ridotto il lasso di tempo fino al momento della nuova elezione di un capo del suo partito e quindi l'ha anticipato. Io credo che questo sia un periodo in cui nella stessa Gran Bretagna si discuterà molto ancora. E comunque c'è questo articolo 50 e rispetto a questo articolo 50 dobbiamo vedere anche quali saranno i futuri rapporti una volta che la Gran Bretagna è effettivamente uscita. E anche noi dobbiamo riflettere quindi. Quindi per quanto riguarda la durata delle trattative non posso esprimermi, non posso dire niente. Il meno possibile dobbiamo rimanere in sospeso. Questo riguarda sia la presentazione della domanda ma anche per le stesse trattative e negoziate. Ora non ci resta che aspettiare le cose con una certa calma. Bene, siamo pienamente d'accordo. Io sono assolutamente d'accordo. Dobbiamo procedere rapidamente e rapidamente significa anche che il governo britannico vedremo ancora chi rappresenterà il governo britannico in quel momento quanto prima deve comunicare la propria decisione e la decisione sull'uscita e quindi l'apertura dei negoziati. Noi prendiamo atto che c'è un certo calendario una tabella di marcia anche fino ad arrivare all'elezione del nuovo capo del Partito Conservatore ma riteniamo che adesso tocca ai britannici di comunicarci il più presto possibile questa decisione. Non sappiamo però quanto questo possa durare. Certo i trattati hanno fissato dei termini delle scadenze ma le cose possono procedere anche più rapidamente e dipende da noi come strutturare poi questi colloqui i contatti con gli inglesi. Possiamo preparare certamente le cose ma per ora non possiamo fare nulla perché ancora non siamo in possesso della comunicazione. Per me è molto importante che l'opinione pubblica europea sappia che non si scherza con la democrazia. Troppo spesso veniamo dipinti come delle elite che non guardano al gioco democratico. Nel momento in cui si fa un referendum e ciascuno di noi può avere la sua valutazione sull'opportunità di quel referendum ma nel momento in cui il popolo inglese si esprime quello che è cruciale è che si rispetti il voto del popolo inglese. Perché se non rispettiamo il voto del popolo inglese diamo l'idea che comunque sia il voto dei cittadini non cambia niente. Ecco, io condivido ciò che hanno detto Angela e François sulla tempistica e contemporaneamente dico anche però che con la democrazia non si scherza. Si è votato, adesso occorre voltare pagina. Grazie, buonasera. Io volevo sapere se avete fatto o farete una riflessione anche su quello che è successo in particolare sui mercati e in particolar modo su come hanno reagito i titoli bancari soprattutto, questo è stato l'aspetto più inquietante della giornata di venerdì probabilmente. e quindi volevo sapere se ne avete parlato e anche della possibilità di rivedere anche le norme da questo punto di vista. In particolare al Presidente Renzi voglio chiedere se corrispondono a realtà le indiscrezioni circolate in queste ultime ore circa un intervento di sostegno dello Stato alle banche italiane. Grazie. Lei sa che esistono delle regole europee. Prima che vi fossero queste regole europee alcuni Paesi, per esempio la Germania, secondo me facendo molto bene faccio i miei complimenti hanno fatto gli interventi necessari. Purtroppo i governi italiani precedenti non hanno fatto un intervento di sistema sul mondo del credito. Oggi il quadro normativo è molto più difficile da maneggiare. Ciò nonostante tutto ciò che servirà per dare tranquillità e fiducia ai cittadini sarà oggetto dell'attenzione delle istituzioni europee e dei governi nazionali a partire dal governo italiano in un quadro di leale collaborazione. È chiaro, aggiungo, che le dinamiche dei mercati scontano oggi preoccupazione, scontano incertezza, non solo nel sistema del credito. Penso a ciò che sta avvenendo per alcune compagnie aeree che erano particolarmente concentrate nel business nel settore continentale. Alcune compagnie low cost. Penso a realtà che fanno business con il mondo inglese. A mio giudizio occorre grande prudenza, buonsenso ed equilibrio. È il momento di prendere atto che l'Europa c'è, è solida ed ha una sua strategia. Certo, non c'è tempo da perdere rispetto anche alle questioni del mercato, ma siamo nelle condizioni di poter affrentare qualsiasi difficoltà e di fare tutto ciò che è necessario nel quadro normativo vigente per sistemare i problemi che eventualmente si verificassero e che in questo momento stanno punendo un po' tutto il mondo del credito europeo, ma non soltanto del credito. Date un occhio a quello che avviene. Io penso tuttavia, e su questo chiudo, che in prospettiva sul medio periodo questa occasione può essere un'occasione molto importante e positiva per la nostra economia. So che questa visione è una visione che non tutti condividono, ma se l'Europa coglie l'occasione di ciò che è avvenuto per investire con ancora più determinazione sulla strategia dei punti che Angela ha ricordato introducendo, io credo che questo potrebbe essere un elemento che fortificherà non soltanto l'economia, ma più in generale la famiglia europea. Le discussioni vanno avanti, certamente abbiamo toccato l'argomento dei mercati, stiamo osservando tutto quanto sta avvenendo su questi mercati e quindi dobbiamo procedere insieme, agire insieme, dobbiamo lanciare anche certi impulsi quali li ho descritti poc'anzi e dobbiamo soprattutto rimanere uniti, rimanere coesi, perché chi ci osserva veramente ci osserva molto strettamente e quindi è molto importante la nostra azione comune, oggi, domani e dopo domani. È una cosa molto importante. Certamente la decisione britannica ha causato una grande certezza, ma come potrebbe essere diversamente? Ah, ma tutti quanti erano avvisati e ci sono conseguenze di percussione quando si lascia l'Unione Europea, anche quando ancora non c'è stata la comunicazione. Adesso c'è un periodo per la stessa Gran Bretagna caratterizzata da un grande incertezza e il Regno Unito è la prima vittima di questa decisione del popolo britannico, anche se noi dobbiamo fare di tutto per reagire positivamente a queste ripercussioni. L'Europa è forte, l'Europa è solita alle sue istituzioni e a una banca centrale europea per quanto riguarda la moneta, è capace di agire e agisce e l'Europa dà un senso di fiducia a tanti in periodi, in tempi molto incerti, quindi dobbiamo essere uniti, coesi e certamente anche, è chiaro che questo periodo di incertezza deve rimanere il più corto possibile, quindi domani, dopodomani, ci deve essere una tabella di marcia, un calendario, prefissato un calendario, dove ci impegniamo per alcune cose concrete, dove ci impegniamo di adottare misure concrete e poi ci deve essere un calendario per quanto deve avvenire adesso tra la Gran Bretagna e noi, quindi noi speriamo che le nostre proposte vengano accolte domani o dopodomani, così alla fine saremo in grado di prendere il più possibile delle misure. Una domanda a tutti e tre, questo si tratta di voi tre, è il nuovo direttorio dell'Europa, voi siete il nuovo direttorio dell'Europa, come prima si parlava del motore franco-tedesco o adesso è proprio un direttorio europeo, Italia, Germania e Francia? E' anche un compromesso tra politica di austerità, politica di crescita ed altre politiche ancora... Comunque questo concetto direttorio io non l'ho mai usato, questo termine, non l'ho mai pronunciato, né François Hollande l'ha mai pronunciato, e nessuno l'ha mai pronunciato. Certamente ci saranno sempre formati di incontri diversi e questo momento di cesura e di cesura si tratta veramente ci ha intotto ad avere questa volta questo formato. Ci siamo voluti incontrare a tre e in tre senza pregiudicare niente e poi vorrei far presente che negli ultimi anni il più spesso e sempre più spesso abbiamo preso insieme di comuno accordo le nostre decisioni sia per quanto riguarda l'Europa e nei suoi interessi più diretti ma sia per quanto riguarda i rifugiati e il patto con la Turchia e l'accordo con la Turchia ma anche tutte le fasi nella costruzione di una sicura zona dell'euro e con questo spirito cominceremo domani noi insieme le discussioni e dopo domani tre non possono decidere per gli altri c'è il principio dell'unanimità nell'Unione Europea e ogni paese ha una sua voce e ogni paese ha un voto bene perché ci siamo incontrati a tre? Innanzitutto perché l'abbiamo semplicemente deciso e questo è già una spiegazione ma anche perché l'Italia la Germania la Francia sono i paesi più popolosi dell'Unione Europea inoltre siamo tre paesi fondatori dell'Unione Europea e tra pochi mesi a Roma ci saranno celebrazioni del sessantesimo anniversario dei trattati di Roma su iniziativa di Matteo Renzi e sappiamo che i trattati si chiamano i trattati di Roma e se un paese così importante grande dell'Unione Europea il Regno Unito non ha mai partecipato all'euro non ha mai partecipato allo spazio Schengen aveva i suoi sistemi aveva mantenuto certi suoi sistemi nazionali ma adesso che la Gran Bretagna non c'è più non ci sarà più è importante che noi almeno siamo uniti e soprattutto dobbiamo essere concordi nel decidere come andare avanti ora è la questione sul rapporto franco tedesco una volta che siamo d'accordo su tutto allora gli altri si preoccupano e quando non siamo d'accordo cosa rara gli altri si preoccupano ancora di più allora per questo motivo abbiamo di decidere di rimanere sempre dello stesso parere di andare sempre d'accordo a volte ci sono delle sfaccettature delle sfumature nelle diverse posizioni è normale tra diversi paesi anche tra due paesi e anche tra diverse personalità ma è importante che anche l'Italia adesso ci sia un paese che conta tantissimo e con la leadership di Matteo Renzi ha dato tanto al processo europeo al processo di unificazione e insieme finora siamo stati in grado di superare le più importanti crisi il mio primo viaggio come presidenza della repubblica francese mi ha portato a Berlino la sera stessa del mio insediamento e da allora abbiamo veramente lavorato con tante crisi molto difficili che hanno colpito l'Europa la crisi bancaria poi abbiamo costruito l'unione bancaria poi ricordo che anche Mario Monti è stato molto utile in questo ci ha dato una gran mano poi abbiamo trovato insieme soluzioni comuni congiunte per la Grecia in più passi abbiamo passato notte in notti per trovare una soluzione per la Grecia alla fine siamo stati coronati dal successo Angela anche per quanto riguarda l'Ucraina non solo abbiamo passato notti con telefonate ma anche intere giornate e abbiamo raggiunto progressi e miglioramenti anche lì anche nella questione dei rifugiati tutti quanti ci siamo impegnati nel trovare delle risposte unitarie e questo vale anche per quello che ci sta muovendo tanto oggi e cioè la decisione britannica insieme prenderemo delle decisioni insieme condivido quello che hanno detto Angela e Francois non c'è un direttorio l'Unione Europea non ha direttori l'Unione Europea ha un'organizzazione anche un po' complessa ma nella quale ciascuno porta il suo contributo in questi anni l'Italia ha fatto alcune riforme che per troppi anni non erano state fatte quindi forse oggi può dare una mano di più rispetto al passato per cercare di costruire i ponti e dare un supporto a questo grande sforzo unitario e il fatto di aver allargato in questa occasione l'incontro forse nasce anche dalla consapevolezza della responsabilità di un particolare momento che stiamo vivendo poi nessuno mi toglierà della testa che Angela mi abbia chiamato perché è preoccupata per il quarto di finale degli europei ma questo lo vedremo in un'altra circostanza il punto chiave è che noi oggi siamo qui per dare una mano e non per creare direttori grazie 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 Grazie.